La Sagra Telurano compie 30 anni, un anniversario da festeggiare nel migliore dei modi per uno degli eventi più radicati e più attesi dell'estate salentina. L'appuntamento, in programma dal 19 al 21 luglio a Merina, frazione di Nizianello, è stato presentato a Palazzo d'Orno. È riduttivo chiamarla Sagra perché, come abbiamo visto, ormai è diventato un contenitore culturale. C'è una comunità che viene coinvolta, quindi intere generazioni, bambini, ragazzi, adulti, anziani, e questo è il senso di comunità della Sagra Telurano. La parola comunità racchiude perfettamente il senso di questo evento, che si sposa bene con le tradizioni di un territorio che non dimentica il suo passato per guardare al futuro. Non è una Sagra commerciale, tiene a precisare il vice sindaco Gian Piero Marchello. È una vera intuizione culturale per la nostra comunità e per il Salento in generale, perché attorno a questo evento da 32 anni si racchiude una comunità con il suo punto più importante, la buona volontaria, il volontariato, e si realizza un evento enogastronomico che dura da tanti anni proprio perché ha delle basi solide. Una festa che non si esaurisce certo nei tre canonici giorni di luglio, ma che vive tutto l'anno, grazie anche all'impegno della parrocchia San Giovanni Paolo II di Merina. Ormai è diventato davvero un percorso, non ci piace definirlo così, che inizia a ottobre e finisce a settembre, ci prendiamo un mesetto di pausa. A ottobre perché noi individuiamo i campi dove gli andiamo a chiedere a compaesani che ce li offrono gratuitamente, dove poi chiediamo che sia seminato il grano. Significativa in particolare l'attività svolta dai bambini attraverso i laboratori. I bambini ai quali attraverso vari laboratori che sono avvenuti durante le vacanze natalizie, il gresso estivo, hanno imparato a realizzare proprio i prodotti che verranno venduti durante le tre serate della sagra. Hanno imparato la pasta fatta a casa, i dolci di una fata, l'urano stompato. Quindi bambini che hanno visto proprio tutto il procedimento, dalla semina fino alla raccolta del grano e poi al suo utilizzo. Negli ampi spazi del centro parrocchiale saranno allestiti diversi stand gastronomici dove apprezzare i piatti tipici e gustosi della tradizione locale. Le tre serate saranno alietate anche da gruppi di musica popolare salentina. La sagra dell'urano è organizzata dal comitato feste patronali, dal comune di Lizzanello e gode del patrocinio della provincia di Lecce, della regione Puglia, della Camera di Commercio di Lecce e del Gal Valle della Cupa.